Oggi abbiamo un cuoco, Paolo Floris, che è un professionista del settore, che insieme alla cooperativa agricola Comunità Il Seme hanno cucinato per noi delle pietanze dal riso a della fregola a base di prodotti stagionali, quindi dalle rance alle varie verdure di stagione. Abbiamo voluto legare la festa di primavera a un ragionamento di agricoltura sociale, un settore importante di integrazione che ha grandissime valenze sia sotto l'aspetto sociale ma anche quello economico perché l'agricoltura non ha mai escluso nessuno, un ruolo in agricoltura, un posto in agricoltura lo si trova per tutti e quindi ci piaceva legare proprio questo evento al fatto dell'integrazione sociale vista nel settore agricolo che ripeto è un settore che sta crescendo tantissimo e sta dando anche dei risultati importanti per le sue valenze come citato davanti ed è un'iniziativa che contiamo di ripetere ulteriormente e contiamo anche di strutturare nel tempo perché è un impegno che Coldiretti porta avanti perché è un settore in cui crede. Grazie. 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 Grazie.